Intanto buon Ferragosto perché siamo davvero a poche ore dalla giornata centrale dell'estate, ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale pomeridiano di Teletruria e vogliamo iniziare proprio dalla viabilità e dalla cronaca legata ad essa. Grosse difficoltà per la bonifica del manto stradale dopo l'incidente di ieri all'uscita della E78 nei pressi di Leville. Il collegamento con Palazzo del Pero è stato chiuso fino al mattino. Non è stata una notte agevole quella vissuta dagli operatori dell'ANAS impegnati nella bonifica del tratto di strada della E78 in prossimità dell'uscita di Leville. Dalle 15.30 di ieri un camion che trasportava frutta e sbandato andando a finire prima contro il guardrail e successivamente contro il New Jersey. Il carico si è rovesciato, soprattutto nel botto sono stati persi centinaia di litri di gasolio che hanno invaso la carreggiata di entrambe le corsie. Un danno che si è moltiplicato, infatti non è bastata la schiuma provvisoria per sanare il problema. Il personale dell'ANAS dovrà cercare di rendere agibile almeno una parte della carreggiata. Tra l'altro le operazioni di soccorso e di intervento ieri sera hanno conosciuto delle oggettive difficoltà per il grosso temporale che ha investito la zona e rallentato i lavori. Tutto il traffico è stato dirottato nel vecchio tratto di strada che è ancora funzionante e che è stato utilissimo nell'assolvere il suo compito. I dieci chilometri che separano le ville da Palazzo del Pero hanno conosciuto un considerevole aumento del flusso veicolare che ha mischiato il traffico di tutti i giorni con l'esodo per le vacanze. Alla vigilia di ferragosto la situazione presenta delle varie criticità. Il tratto in direzione Arezzo è stato riaperto nella tarda mattinata di oggi. Per il ripristino totale bisognerà aspettare, visto che tutto il manto stradale dovrà essere rifatto. Restiamo nella cronaca ma ci spostiamo negli incendi perché si sono concluse stamattina le operazioni di bonifica del rogo sviluppatosi ieri a Castelfranco Piendiscò. Sono proseguite per tutta la notte fino a questa mattina le operazioni di spegnimento e bonifica del rogo che ha interessato per gran parte della giornata di ieri la località Treggiano al confine tra i comuni di Castelfranco Piendiscò e Reggello. Il servizio antincendi boschivi della regione ha ufficializzato a nove ettari di bosco andati in fumo la conta dei danni caratterizzati principalmente da querce e pini. È stato questo il primo vero incendio del territorio valdarnese dell'estate che ha coinvolto 25 squadre da terra oltre ai vigili del fuoco tre elicotteri e un canader. Tanti volontari delle associazioni antincendio che hanno partecipato sono stati proprio loro infatti che grazie all'azione di circoscrizione delle fiamme hanno reso possibile lo spegnimento insieme ai mezzi dall'alto. Uomini e donne che hanno preso anche il plauso del presidente della regione che ha sottolineato in un post su facebook come a oltre 40 gradi queste persone siano entrate all'interno degli incendi a difesa del territorio. Operazioni coordinate dall'unione dei comuni del Prato Magno e dalla sua sala operativa di loro ciuffenna. Punto nevralgico per la provincia di Arezzo in caso di intervento nei roghi del territorio. E nonostante il temporale di ieri che ha mitigato anche il rischio incendi tra le altre cose le temperature non sono però ancora scese in maniera decisa. Le previsioni parlano di un cambio solo a partire da domenica. Le ultime previsioni meteo indicano alte temperature e caldo intenso su tutta Italia interrotti solo da qualche isolato temporale a ridosso dei rilievi almeno fino a venerdì 16 agosto. Come dire che ad Arezzo in Toscana e nel resto d'Italia fino a ferragosto compreso il meteo non proporrà grandi cambiamenti. Ma da sabato 17 agosto l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi di qualche centinaio di chilometri spiegano gli esperti e gli effetti si vedranno prima al nord poi al centro nella giornata di domenica 18 agosto. E' questa la data a cardine per quanto riguarda la Toscana in cui le temperature scenderanno di diversi gradi decretando così la fine di questo lungo dominio del grande caldo africano. Ma niente paura non si tratterà di una fine dell'estate dicono gli esperti ma di una rinfrescata che sinceramente ci voleva verso un periodo che sarà caldo ma più mite che potrebbe durare fino all'ultima decade di agosto per la gioia di tutti coloro che ancora le ferie hanno da farle e per i turisti che hanno da arrivare. E tra le conseguenze del caldo estremo di queste ultime settimane c'è la sofferenza del lago Trasimeno che da tempo appunto sviluppa un'azione di soccorso utilizzando l'invaso di Monte D'Oglio e noi lo abbiamo chiesto all'ente Acque Umbre Toscane cosa fare vista la situazione appunto di secca del lago che di fatto è confine fra Toscana e Umbria. La conferma arriva direttamente dal presidente Eaut. Il sistema di Monte D'Oglio può essere di ausilio al reintegro del livello idrico del lago Trasimeno. Tecnicamente già oggi i tubi del sistema che riga tutta la Valdichiana vanno a confluire in un affluente del lago Trasimeno. Certamente con una volumetria che non può superare i 10 milioni di metri cubi che sono stati ipotizzati. Va tenuto anche in considerazione che i 10 milioni di metri cubi potenzialmente spostabili dall'invaso di Monte D'Oglio senza precludere le altre esigenze idropotabili ed il livello al lago Trasimeno possono portare un beneficio che è nell'ordine di 8-9 cm a me. Va da sé che è comunque un qualcosa per cui chiaramente non può essere l'unica soluzione ma può essere quota parte di una soluzione. L'accordo tra Umbria e Toscana potrebbe arrivare entro l'inverno, previa valutazione di impatto ambientale perché i due ecosistemi sono molto differenti. Vi è poi l'ulteriore possibilità che la diga del Chiascio, il territorio Umbro che fa parte comunque del sistema Monte D'Oglio possa essere collegata al lago Trasimeno apportando anch'essa quantità significative. Certamente lì tutta l'infrastruttura è da fare quindi il sistema è più complesso da realizzare, non è di soluzione immediata. Ci spostiamo nella pagina della sanità perché con l'estate aumentano anche le richieste di soccorso al 118 aumenta la patologia traumatica e tutte le forme di disidratazione nei pazienti anziani a ridosso della festività mancando i medici di famiglia arrivano anche le richieste che non sono propriamente da emergenza ma gli operatori non si sottraggono mai. Maddalena Pieroni Centrale del 118 da qui partono ovviamente tutti i mezzi del 118 in soccorso per le varie problematiche allora d'estate quali sono intanto le richieste più importanti che vi arrivano? Beh diciamo che la centrale operativa al periodo caldo lo vive 365 giorni all'anno in questo periodo è un particolare aumento alla patologia traumatica va dagli incidenti di bicicletta, gli affogati in piscina, ai dispersi che si fanno male, luoghi impervi e chiaramente tutte le forme di disidratazione nei pazienti anziani e queste diciamo che sono le patologie più frequenti a ridosso poi delle festività chiaramente con la riduzione dei medici di famiglia, delle guardie mediche abbiamo anche aumento di chiamate che non sarebbero proprio di emergenza diciamo più di urgenza, cioè patologie croniche che peggiorano e quindi hanno bisogno di un'occhiata in più Come vi organizzate? Ma l'organizzazione è più o meno similare tutto l'anno ci sono comunque sia dei colleghi che si prestano a fare più attività più turni, più attività durante il periodo estivo con la concentrazione ovviamente sul fine settimana dove è più intenso il traffico stradale soprattutto le attività ludico-recreative Ecco adesso voi siete intervenuti con la maxi emergenza di quell'incidente del pullman che ha visto coinvolto un gruppo nutrito di cinesi una cosa del genere vi capita spesso? No, per fortuna no perché sono eventi che non sono nella quotidianità però ovviamente la centrale parte già preparata per quelli che sono questi eventi definiti macroeventi differiscono dalle maxi emergenze perché per maxi emergenza si intende un terremoto un evento maggiore, un macroevento è un evento limitato nello spazio e nel tempo soprattutto nella richiesta di soccorso in base al numero dei feriti che rimangono sempre quelli E adesso passiamo alla politica e andiamo ad Arezzo mesi fa Palazzini, capogruppo in consiglio comunale per Fratelli d'Italia ha chiesto interventi urgenti per l'area ex lebole definita fuori controllo non possiamo attendere gli sviluppi delle trattative imprenditoriali con l'attuale proprietà dobbiamo agire subito è il capogruppo in consiglio di Fratelli d'Italia partito di maggioranza che torna all'attacco su quanto avviene nell'area ex lebole Palazzini sostiene che non sia più rinviabile un'ordinanza per la sicurezza dopo l'incidente avvenuto con un ritorno di fiamma che ha causato serie ustioni ad una donna è l'ennesima riprova che all'interno dell'area lebole trovano riparo molte persone di cui ignoriamo praticamente tutto ignoriamo l'identità, ignoriamo l'attività svolta, ignoriamo tutto e questo non è più tollerabile per Fratelli d'Italia è da tanto che non è più tollerabile abbiamo già preso una posizione netta nei mesi scorsi presentando un'interrogazione ed un atto di indirizzo dove veniva richiesto di intraprendere qualsiasi azione si ritenga utile per ripristinare sicurezza e decoro questa è l'ennesima riprova che un intervento non è più procrastinabile Palazzini mette le mani avanti e sostiene che se i tempi dovessero ancora allungarsi si attiverà per far approvare una delibera di iniziativa consigliare targata Fratelli d'Italia ma coinvolgendo ovviamente tutta la maggioranza Restiamo nella politica e restiamo ad Arezzo risponde per le rime agli attacchi sui metodi polizieschi per contrastare il disagio sociale sfoderati ad Arezzo nel 2020 contro i metodi della giunta D'Arezzo 2020 scusate contro i metodi della giunta Ghinelli Il vice sindaco Tanti difende le scelte fatte e afferma le politiche sociali non sono il lascia passare per l'illegalità e l'insicurezza Le gravi povertà sono una cosa la deliberata e reiterata illegalità e violenza sono un'altra e mischiare le due cose non serve a nessuno Il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti non ci sta ad essere tirata per la giacca da Arezzo 2020 che ha definito polizieschi e inutili i suoi metodi per affrontare il disagio sociale Il gruppo di lavoro per le gravi povertà e il nucleo operativo per la sicurezza sociale spiega tanti proseguono nel loro lavoro di garantire sostegni e aiuti ma sempre e solo nel rispetto delle regole In altre parole quei pochi soggetti presenti in città che bivaccano creando disagio ai cittadini occupano irregolarmente spazi pubblici mettono in atto azioni fuori dal perimetro della legge hanno comportamenti violenti, rifiutano aiuti sono pluripregiudicati hanno a loro carico decreti di espulsione dal territorio nazionale non hanno documenti e sono in Italia senza diritto a starci non possono essere incoraggiati a restare nell'illegalità i servizi sociali, sanitari e assistenziali non possono e non debbono essere una via alternativa al rispetto della convivenza civile non possono essere sovraesposti a rischi anche in relazione alla loro incolumità personale da una parte dell'amministrazione la mano sarà sempre tesa per aiutare e far ripartire le persone ma chi mette a rischio deliberatamente la sicurezza di tutti va trattato per quello che è e cioè un problema di ordine pubblico e adesso parliamo di noi questa sera su Teletruria subito dopo il telegiornale delle 20.30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia e 9.10 informazione ed attualità la serata proseguirà poi con In Team questa sera sarà Paolo Sodhi ad essere ospite del salotto di Paola Pompei faranno seguito Generazione 3 Lifestyle condotto da Riccardo Ciccarelli e chilometro lanciato il rotocalco dedicato al ciclismo di Teletruria che oggi presenta tre grandi appuntamenti del mese di agosto la Coppa Ciuffenna il Giro del Casentino ed il Gran Premio Capodarco è tutto dal telegiornale pomeridiano di Teletruria ci rivediamo stasera